Il treno Intercity 594 di Trinitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Roma Termini delle ore 14.35, è l'arrivo all'inario 1. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Intercity 703 di Trinitalia, proveniente da Porto Gruaro Caorle e diretto a Venezia Santa Lucia. Il treno Intercity 603 di Trinitalia, proveniente da Roma Termini delle ore 14.35, è l'arrivo all'inario 2, invece che al binario 1. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Terne in tutte le stazioni. Attenzione vietato a attraversare i binari, salivarsi del sottopassaggio. Si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e seguir a uscendere quando non sono completamente fermi. Il treno Intercity 504 di Trinitalia, proveniente da Trieste Centrale e diretto a Roma Termini, è l'arrivo all'inario 1. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.